Ben trovati all'edizione speciale del TG7 Basilicata. Continuano i disagi per i cittadini di contrada botte a potenza dovuti all'attivazione di un ripetitore team. Poiché l'impianto di telefonia non è ancora collegato alla rete elettrica, la società per alimentarlo ha installato un generatore di corrente molto rumoroso. All'inquinamento acustico si aggiunge l'impatto ambientale notevole, spiegano i rappresentanti del comitato che si è costituito e che da tempo continua a denunciare una situazione ormai insostenibile. Oltre alle onde elettromagnetiche anche l'aria inquinata e il rumore. Il comitato chiede di delocalizzare l'impianto con la massima urgenza per tutelare la qualità della vita dei cittadini della contrada. Dopo il silenzio dell'amministrazione comunale di potenza che non ha dato risposto e nonostante le innumerevoli segnalazioni così come riferiscono i cittadini, è il vice sindaco Antonio Vigilante ad incontrare il comitato per fare il punto della situazione. Il decreto semplificazioni vieta ai comuni di potersi rivalere in sede giudiziaria contro l'installazione di impianti tecnologici per quanto concerne la comunicazione, ci spiega Vigilante. In ragione di questo l'amministrazione comunale di potenza aveva un contenzioso aperto, la sospensiva di un procedimento per l'installazione di questo impianto è incontrata a botte. In ragione del decreto sopravvenuto abbiamo condotto una transazione. Per tutelare la salute dei cittadini abbiamo ottenuto la disponibilità a concederci a spese della ditta una centralina di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, prosegue Vigilante. Si è poi attivato nel chiedere un supporto ad Arpab per monitorare l'impianto incontrando il direttore Antonio Tisci. Siamo riusciti ad ottenere così una tutela ambientale, la soluzione alternativa sarebbe stata andare in giudizio ma alla luce del decreto semplificazione avremmo visto rigettata l'opportunità per sollevare questa criticità. L'amministrazione è inoltre pronta a mettere a disposizione i suoli di proprietà comunale dove non insistono aree sensibili per le future localizzazioni così da evitare queste incresciose dinamiche. Nella riunione condotta alla presenza dei rappresentanti del comitato abbiamo ottenuto, dice Vigilante, la disponibilità della società installatrice ad operare un'indagine sul suolo per l'installazione dell'impianto e a farsi portavoce con la tema per lo studio sulla copertura del segnale. L'operatore si è detto fiducioso in quanto il settore in continua evoluzione potrebbe cadere l'interesse di questo impianto, potrebbero esserci tutti gli elementi esterni e anche la risoluzione del contratto con il privato. La società ha fatto sapere che settimana prossima sarà Potenza per concordare il luogo dell'installazione della centralina di monitoraggio. Noi continueremo in una richiesta di pianificazione, restiamo fiduciosi, conclude Vigilante. E Antonio Tisci, direttore dell'ARPAB, a sottolineare che il compito di ARPAB è il monitoraggio e non la delocalizzazione di questi impianti. Ho dato la massima disponibilità all'amministrazione comunale di Potenza tramite il vice sindaco Antonio Vigilante, dichiara Tisci, per valutare le condizioni esistenti e porre un sistema di monitoraggio dell'impianto verificando H24 le emissioni di radiazioni se dovessero esserci. Ci vedremo nei prossimi giorni per queste verifiche. Sono disponibili, aggiunge Tisci, ad incontrare i cittadini e sono pronto ad attuare tutti i monitoraggi necessari, volti a garantire per quanto di nostra competenza l'assolubrità dell'operazione. I cittadini di contrada botte e stufi di continue promesse meritano risposte immediate a cui si accompagnino azioni per risolvere una questione che va avanti da troppo tempo, minando la salute oltre che la qualità della loro vita. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a più tardi.